Papa Francesco, Angelus, 27 febbraio 2022, ottava domenica del tempo ordinario Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù ci invita a riflettere sul nostro sguardo e sul nostro parlare. Lo sguardo e il parlare Anzitutto sul nostro sguardo, il rischio che corriamo, dice il Signore, è concentrarci a guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello, senza accorgerci della trave che c'è nel nostro. In altre parole, essere attentissimi ai difetti degli altri, anche a quelli piccoli come una pagliuzza, trascurando serenamente i nostri, dandogli poco peso. È vero quanto dice Gesù, troviamo sempre motivi per colpevolezzare gli altri e giustificare noi stessi. E tante volte ci lamentiamo per le cose che non vanno nella società, nella Chiesa, nel mondo, senza metterci prima in discussione e senza impegnarci a cambiare anzitutto noi stessi. Ogni cambiamento fecondo, positivo, deve incominciare da noi stessi. Al contrario, non ci sarà cambiamento. Ma, spiega Gesù, facendo così, il nostro sguardo è cieco, e, se siamo ciechi, non possiamo pretendere di essere guide e maestri per gli altri. Un cieco, infatti, non può guidare un altro cieco. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci invita a ripulire il nostro sguardo. Per prima cosa ci chiede di guardare dentro di noi per riconoscere le nostre miserie. Perché, se non siamo capaci di vedere i nostri difetti, saremo sempre portati a ingigantire quegli altrui. Se, invece, riconosciamo i nostri sbagli, e le nostre miserie, si apre per noi la porta della misericordia. E dopo esserci guardati dentro, Gesù ci invita a guardare gli altri come fa Lui. Questo è il segreto, guardare gli altri come fa Lui, che non vede, anzitutto, il male, ma il bene. Dio ci guarda così. Non vede in noi degli sbagli irrimediabili, ma vede dei figli che sbagliano. Cambia l'ottica, non si concentra sugli sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori. Salva sempre la persona. Crede sempre nella persona, ed è sempre pronto a perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre, e ci invita a fare lo stesso, a non ricercare negli altri il male, ma il bene. Dopo lo sguardo, Gesù oggi ci invita a riflettere sul nostro parlare. Il Signore spiega che la bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. È vero, da come uno parla, ti accorgi subito di quello che ha nel cuore. Le parole che usiamo dicono la persona che siamo. A volte, però, prestiamo poca attenzione alle nostre parole, e le usiamo in modo superficiale. Ma le parole hanno un peso, ci permettono di esprimere pensieri e sentimenti, di dare voce alle paure che abbiamo, e ai progetti che intendiamo realizzare, di benedire Dio e gli altri. Purtroppo, però, con la lingua possiamo anche alimentare pregiudizi, alzare barriere, aggredire, e perfino distruggere. Con la lingua possiamo distruggere i fratelli. Il pettegolezzo ferisce, e la calugna può essere più tagliente di un coltello. Al giorno d'oggi, poi, specialmente nel mondo digitale, le parole corrono veloci, ma troppe veicolano rabbia e aggressività, alimentano notizie false, e approfittano delle paure collettive per propagare idee distorte. Un diplomatico, che fu segretario generale delle Nazioni Unite, e vinse il Nobel per la pace, disse che abusare della parola equivale a disprezzare l'essere umano. Domandiamoci, allora, che genere di parole utilizziamo, parole che esprimono attenzione, rispetto, comprensione, vicinanza, compassione, oppure parole che mirano principalmente a farci belli davanti agli altri? E poi, parliamo con mitezza o inquiniamo il mondo spargendo veleni, criticando, lamentandoci, alimentando l'aggressività diffusa? La Madonna, Maria, di cui Dio ha guardato l'umiltà, la Vergine del Silenzio, che ora preghiamo, ci aiuti a purificare il nostro sguardo e il nostro parlare.